Come ha annunciato, l'argomento di questa coda di trasmissione è quello politico perché iniziamo ad affrontare, lo faremo oggi e domani, il tema delle primarie che si terranno domenica 28 a Cattolica, le primarie del Partito Democratico per la scelta del candidato in vista delle amministrative di giugno, anche se la data ancora deve essere definita nel dettaglio. Il nostro primo ospite è Corrado Piva. Buongiorno. Buongiorno e bentrovato. Domani sarà il nostro ospite e Sergio Gambini. Diamo a tutti la voce, siete solo due quindi è anche facile. Piva, partiamo subito. Allora, è una campagna di arrivo alle primarie, partita abbastanza tranquilla. Io mi ricordo quando sono venuta a trovarvi in quel di Cattolica una mano tra lei e Gambini, parole comunque di stima vicendevoli, poi in realtà una campagna che si è accesa giustamente come deve essere la politica, pur essendo dalla stessa parte, come si suol dire. Ci dica un po' quelle che sono le priorità che ha cercato di portare all'attenzione dei cattolichini, perché ricordiamo chiaramente sono primarie del centro-sinistra, primarie chiaramente rivolte a quelli che sono gli elettori del centro-sinistra, ma che poi in realtà sono aperte a tutti, quindi in teoria anche qualcuno che crede nelle vostre persone, pur arrivando da una storia politica diversa, può venire domenica a votare. Sì, aperte a tutti perché crediamo come partito che il sindaco sia il sindaco di tutti e tutti possano dare un giudizio su chi dovrà essere il sindaco e chi rappresenta meglio questa collettività, questa comunità. Abbiamo preso questa strada, crediamo di esserci impegnati a fondo per produrre programmi e confronti. Non c'è stato giorno che ne abbiamo fatto due o tre confronti su ogni tema, su ogni sito sociale, su ogni tematica, dal balneare al sociale, quindi abbiamo offerto alla città un'opportunità politica di discussione e di riflessione maggiore rispetto a quanto in questi anni non ce ne sia stata. Come hai detto, era tutto partito abbastanza tranquillamente, poi con l'avvicinarsi della data anche qualche scaramuncia c'è stata. Ad esempio alcuni dei sostenitori di Gambini dicono che il suo programma è un po' un libro dei sogni. Cosa risponde? Quali sono i sogni? I sogni sono la nuova scogliere, l'acqua pulita, il rinnovo della spiaggia. Sono dei sogni comunque? No, non sono dei sogni perché abbiamo possibilità di intervenire sul depuratore, abbiamo possibilità di intervenire sull'iscaricamare, abbiamo possibilità di allungare i tubi di scarico dei liquami del depuratore, anche se diventa acqua pulita e depurata, però bisogna di essere portata a largo. Abbiamo bisogno di mettere in sicurezza il porto canale, sia per i datanti che per i pescatori. Sono operazioni che tra l'altro in parte sono già in corso, ma devono offrire sicurezza nell'ingresso dei porti, soprattutto per i pescatori inattanti nella grande d'Arsena, che è una qualità della nostra offerta. Sul venteno in particolare noi abbiamo da sempre un porticciolo che oggi è inagibile, vogliamo tragarlo e fare in modo che le acque antistanti, le spiagge di quell'area siano balneabili e pulite. Tra l'altro lei è forte anche di una precedente esperienza amministrativa con alcuni sindaci importanti, uno in particolare di cui tra l'altro, se non sbaglio, oggi ricorre anche l'anniversario della scomparsa, ricordiamolo, Gianfranco Micucci, insomma un grande sindaco, in realtà non so, grande, però sicuramente ha fatto parlare tanto di sé. Quindi è un'esperienza politica la sua che parte da lontano in quel di Cattolica. Noi abbiamo avuto due grandi sindaci, Mazzocchi con cui ho partecipato alla progettualità della città e Gianfranco, compianto Gianfranco, col quale ho realizzato la progettualità portata avanti da Mazzocchi, che è la Cattolica di oggi, la città col suo ospedale, col suo teatro, con i suoi teatri, con le sue piazze, con le sue fontane, con le sue scuole, con le sue scuole, credo sia importante questo qui, perché abbia sempre dato molto valore alla cultura, alla crescita, col centro polivalente e siamo gli unici, credo, a avere sulla riviera queste infrastrutture, quindi sul sociale Cattolica è sempre puntato. Ha ragionato anche di turismo, forse ha marcato un po' più il passo, oggi dobbiamo incentivare questa azione, soprattutto sul turismo, perché è la nostra economia, è la nostra fabbrica, è la nostra industria, quindi turismo balneare, turismo sportivo, in relazione con l'entroterra particolarmente, perché abbiamo tre grossi impianti a San Giovanni Marignano, per esempio il Gol, il circuito golfistico, abbiamo Riviera Orsis e abbiamo i motori a Misano, in un rapporto con un'entroterra che è bellissimo, con dei borghi meravigliosi e noi dobbiamo essere in grado, in base anche alla nuova legge 7 appena promulgata, di offrire e farci conoscere in Europa, quantomeno, con il nostro prodotto, che deve essere quello venduto e mantenere una qualità di vita dei nostri cittadini importante. Quindi secondo lei c'è ancora un'immagine di crescita sul turismo, un turismo che non deve essere solo più balneare, anche se il balneare è comunque importante. Il balneare secondo me è la base, è la base dove pensiamo sempre a un turismo familiare di qualità e tant'è che puntiamo a rinnovare, oltre che alla spiaggia, offrire ai nostri operatori, ai nostri albergatori strutture di maggiore qualità, con servizi di qualità nella zona mare, con dei meccanismi che abbiamo previsto nel programma elettorale. Poi da affinarsi tecnicamente, naturalmente. Tipo? Te ne dica qualcuno così. Tipo, ad esempio, ampliare gli alberghi e incorporare i negozi sottostanti. Avere proprio la via degli alberghi, avere la via del commercio, avere l'asce della spiaggia qualificato. Sono tre pezzi della stessa medaglia. Per quanto riguarda la cultura, sappiamo che Cattolica ha un teatro, ha un'arena che d'estate porta anche grandi nomi. E grandi polemiche, alle volte. Alle volte, sì. Insomma, in ogni caso, qual è la sua linea su questo? La linea è quella di avere questa arena con questa funzione. Perché noi con questa funzione, oltre a vendere, tra virgolette, un prodotto Cattolica, quindi è già una commercializzazione in sé, diamo modo ai nostri turisti che sono qui a soggiornare di offrire delle opportunità maggiori. Io vorrei incrementarle, queste cose, non solamente sull'arena, ma anche sul resto della città. L'anno scorso ho fatto un bel lavoro, Cattolico sbaila, eccetera. Ecco, su questo filone vorrei trovare i meccanismi per fare le feste sulle strade, sulle traverse, mangiare in strada, per esempio. Il turista, quando viene Cattolica, deve trovarsi bene e quando va via deve essere contento. È il miglior viatico per la promozione della città. Quindi fare un'esperienza, tutto tonno, insomma. Non solo spiaggia, non solo mare, ma fare un'esperienza. Riveniamo allora sui temi del turismo. Così, dal volo, affrontiamo un po' di temi perché è poi quello che forse interessa anche ai cittadini. Quindi sicuramente un grande bacino di voti arriverà anche sul tema del lungomare. Tanto dibattuto a Cattolica, adesso sono arrivati anche questi progetti. Chiaramente, come ha detto anche l'attuale sindaco, si tratta solo di visioni sui sogni, che poi dopo chiaramente dovrebbero diventare realtà. Corrado Piva, come lo vedi il lungomare di Cattolica tra qualche anno? Il lungomare è il nostro biglietto di visita, lo sarà, pur essendo l'area di più difficile innovazione. Perché? Perché alle spalle non agli alberghi. Chi si è innovato al mare è l'area che va dal Cursor fino al ventena, in quanto la struttura grande alberghiera è alle proprie spalle. Però questo non significa che noi dobbiamo tentare a trovare i meccanismi per aiutare i nostri operatori di spiaggia ad innovarsi. Va fatto, assolutamente. Perché, come dicevo, è il nostro biglietto di visita. Bisogna trovare i meccanismi e le premialità per aiutarli e anche occuparsi con gli istituti bancari per favorirli con dei plafoni speciali. Nel senso che la lunghezza dell'investimento, i tassi più bassi possibili e capire che per la città è importante questa cosa. Sicuramente le banche locali che hanno un cuore, un'anima e un amore per la città, tra l'altro hanno avuto degli approcci, hanno già detto che metterebbero a disposizione un plafono speciale. Ma un lungomare pedonalizzato a carrabilità mista, come la vede? Perché è mica semplice, insomma, gestire questa cosa. Io la vedo a carrabilità mista perché è cattolica a due velocità, inverno e estate. D'inverno abbiamo 15-16 mila abitanti, d'estate ne abbiamo 50-60 mila e quindi abbiamo bisogno di flessibilità. Flessibilità significa che il lungomare fa parte dell'anello della città e non possiamo assolutamente farne a meno. Non è Riccione o Misano, perché la Riccione ha una strada parallela al lungomare e Misano ha costruito una nuova strada parallela al lungomare stesso. Ecco, quindi noi non siamo in questa condizione. L'anello per noi è fondamentale. Allora se dobbiamo limitarlo d'estate va bene, perché tutti dobbiamo fare un sacrificio per il turismo, che è la nostra attività principale, ma d'inverno possiamo liberamente consentire di fruire di questo asso. Tassa di soggiorno? Tassa di soggiorno è una tassa che ormai è consolidata. Io da questa tassa vorrò aggiungere risorse per la promozione. Ho già detto nel programma scritto che 200 mila euro devono andare per la promozione e investire questa tassa in ragionamenti che riguardano prettamente la parte turistica. Quindi parliamo di fontane, parliamo di fiori, parliamo di crescita sulla spiaggia, di manifestazione, di promozione, ma legate alla nostra attività principale che è il turismo. Il progetto PRODE che tanto ha fatto discutere, che doveva concludersi prima del passaggio dell'avvicendamento, poi la parte più complicata, ve l'hanno lasciata, insomma l'hanno lasciata a chi arriverà dopo. Io ne ho discusso lungo, l'ho guardato, l'ho ragionato. Ricordiamo anche bene che cos'è per chi non è, magari non bazzica tanto cattolica. Sì, 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 è un progetto che riguarda le persone più deboli, quindi la protezione delle persone più deboli. Quindi la presenza di ciclabili pedonali, con cambi anche di viabilità in alcune zone cruciali della città. Quindi vediamo noi da Rimini, oggi riusciamo a dare bicicletta cattolica, fino al Porto, ancora non riusciamo a dare a capice, ma naturalmente si ragionerà in questo modo. Io penso che sia intanto un fatto di civiltà avere anche le piste ciclabili, però dobbiamo fare i conti anche con le nostre careggiate, con le nostre esigenze, che oggi sono anche altre e non possiamo farne meno. Quindi dobbiamo mettere insieme e contemperare le due cose. Io penso che la via del prete debba essere, che la terza via del mare debba contenere il doppio senso, mantenendo la pista ciclabile, ci mancherebbe, perché non possiamo pensare di portare il traffico a mare, quindi sulla via Carducci, e d'inverno ingorgare le via Mazzini, che diventa una fila con un grande inquinamento. Dobbiamo trovare un equilibrio su questo qui. La stessa cosa vale sul lungomare, dove d'inverno penso che debba essere restituito il doppio senso. L'estate invece in senso unico, con la chiusura serale del lungomare, per offrire ai nostri cittadini, nel momento della passeggiata, dello stare insieme, le condizioni ambientali migliori rispetto a un attimo. Quindi questo concetto di flessibilità che diceva prima. Questa fisarmonica, estate e inverno. Flessibilità. Flessibilità, parola d'ordine, anche perché ci ho legato a questo, anche tutto il tema dei parcheggi. Forse Cattolica effettivamente ha abusato dei parcheggi sulle vie, cioè ha un po' costipato queste vie con parcheggi a destra e a sinistra, quindi rendendo anche le carreggiate un po' piccole. Cosa ne pensa? È un tema sentito. Cattolica è nata mille anni fa. Ma le macchine non c'erano. Era un burgo marinara, quindi brava, c'erano i caressi, c'erano neanche le biciclette. Allora, quindi le strade erano piccole, dovevano stare vicini per vedersi meglio, per contattarsi meglio. Era così. Il mondo è cambiato, oggi bisogna trovare le soluzioni per vivere il mondo di oggi. E le strade sono piccole, bisogna trovare delle collocazioni, secondo me, io le chiamo contenitori, o a raso o a silo. Vediamo che il parcheggio interrato ha grande difficoltà ad essere utilizzato. L'abbiamo verificato, in Piazza Primo Maggio facciamo il parcheggio con un piano sotto, ma il progetto era due piani. Non partì, è un certo verso. Un piano forse ci va, due piani no. Però vedo che il silo potrebbe essere la soluzione. Abbiamo delle aree individuate vicino al lungomare, dove poter realizzare dei parcheggi. A mio avviso sull'anello, quindi lungomare e via Carducci, noi dobbiamo individuare due soluzioni a silo e magari una sulla via Massini. Questo sarà il progetto del futuro. Naturalmente, non è che nella legislatura prossima noi riusciremo a realizzare queste cose. Però la progettualità è importante. Perché ho detto Mazzocchi e Micucci? Perché Mazzocchi in dieci anni ha progettato la città. Con Micucci abbiamo operato per portare avanti i progetti. e con la Darsena abbiamo terminato il percorso messo in campo dal sindaco Mazzocchi, che comprendeva anche altre cose, l'area d'urbano, piano del traffico, riorganizzazione scolastica, cultura, eccetera, eccetera. Guardando al bilancio, abbiamo parlato di tassa di soggiorno, ma il capitolo tasse l'ha tanto odiata, tra virgolette, tassa sull'ombra, addizionali IRP, insomma, come vede il bilancio 2017? Sì, guardi, il bilancio 2017 lo vedo bene, perché è stato impostato bene dall'attuale amministrazione, Piero ha pensato di fare dei sacrifici per offrire a chi sarebbe venuto dopo una condizione migliore, ha equilibrato il monte mutui con il bilancio comunale, quindi 25 milioni di 2,2 milioni, paghiamo un interesse dello 0,68%, quindi ci costa 180 mila euro la voce interesse sull'investimento, poco, e noi dobbiamo mantenere questo livello di indebitamento, però man mano che si chiudono i mutui dobbiamo riaccendere per investire in città. Ecco, infatti, su questo è stato un po' criticato, Piero ha detto che ci sono 18 milioni da spendere, qualcuno le ha detto che bisogna andare molto cauti con i bilanci attuali, vuole rispondere? Sì, rispondo, perché ci sono già un bilancio, lo approvano mercoledì sera, sono previsti 8 milioni e mezzo di investimenti nei primi tre anni, e solamente 450 mila euro sono rivenienti da mutui, quindi Piero ha inteso mantenere tutta la possibilità di indebitamento, di accesso al mutuo intera, quindi come dicevo prima vorrei mantenere il livello di indebitamento a 25 milioni, man mano che si chiudono gli investimenti riaccenderli per mantenerlo a 25, significa che in 5 anni ci sono 10 milioni di euro, più gli 8 che ha messo Piero siamo ai 18, se ne arrivano fuori siamo ai 18, sì esattamente, la tassa sull'ombra la voglio togliere perché è una tassa avversatoria, io capisco la tassa sull'occupazione del suolo ma che la tenda debba pagare mi sembra poco concorrenza. Anche anche l'amministrazione se non sbaglio Sant'Arcangelo è andato in questo verso proprio con il nuovo bilancio quello 2016. È anche vero che però sempre di più le amministrazioni comunali possono contare solo e quasi esclusivamente sulle tasse locali perché da Roma il rubinetto l'hanno già chiuso da quel po'. Sì però dico anche che tutti gli anni il Comune di Cattolica ha un avanzo di amministrazione di 500-600 mila euro e questi 500-600 mila euro in parte voglio mettere sul turismo in parte voglio metterli per restituire un po' di soldi ai nostri cittadini che hanno fatto grandi sacrifici in questi anni. Il tema anche politico interno perché c'è stata qualche polemica anche con i vertici del partito dobbiamo andare anche un po' sulle polemiche perché se no non ci divertiamo anche perché è vero che ha schivato il faccia a faccia così abbiamo letto nei giorni scorsi come cosa è successo? Il faccia a faccia vanno... Noi non l'abbiamo neanche proposto lo diciamo non... Vanno regolamentati non possono essere unilaterali mercoledì abbiamo il faccia a faccia con gli albergatori l'hanno organizzato ci hanno chiamato e si partecipa ma se adesso è organizzato da una parte che non vada bene quindi va regolamentato ognuno porta le sue motivazioni con i tempi di presentazione del progetto con le risposte da darsi a chi formula ecco questo qui è il tema mercoledì siamo presenti abbiamo incontrato tutta cattolica tutte le varie sfaccettature della società quindi credo che chi aveva piacere di incontrare capire le proposte abbia avuto modo di poterlo fare però diciamo che con la segreteria con i vertici del partito qualche beccata c'è stata perché ma non lo so naturalmente perché c'erano schieramenti differenti sostenibilità differenti rispetto ad obiettivi di fondo insomma e ha anche stuzzicato il suo messaggio sul fatto che non ha ancora pubblicato il suo programma per intero sì io non l'ho visto avevo piacere magari per fare una discussione e io l'ho pubblicato un mese fa il mio programma per intero l'ho depositato e avevo piacere di leggerlo anche per capire se magari se ci sono dei punti di contatto bravo infatti molte cose si potrebbero anche condividere io immagino che il 90% delle cose possono essere condivise però avevo piacere di leggerlo io ho dato la possibilità l'opportunità agli altri di leggerlo è fatto per tutti e vabbè chiederemo anche al suo avversario domani le volevo chiedere anche una cosa sulla questione farmacie che ha creato un certo malumore proprio all'interno della maggioranza in consiglio c'è stata anche qualche spaccatura qualche crepa questa vendita farmacie rappresentano un patrimonio del comune e sono una forma aziendale che ha avuto una funzione importante negli anni 60 50 dove c'erano poche farmacie a servire ai cittadini anche di calmirazione dei presti oggi si può decidere più liberamente è chiaro che nel tempo questa azienda è scemata dal punto di vista dell'introito dei guadagni a mio avviso bisogna potenziarla dopo si può decidere di fare una scelta di un certo tipo o di un certo altro e quindi la vorrei valorizzare e decidere ricevere alla città se alienarla per investire oppure i proventi della gestione investirli in città sicuramente il comune di Cattolica ha difficoltà a gestire la farmacia in azienda ci sono ditte specializzate che potrebbero aiutarci a fare questa operazione mantenendo inalterato il personale dipendente per esempio ma conoscendo i meccanismi di commercializzazione di acquisto dei medicinali eccetera tranne dei guadagni che potrebbero essere riversati sulla città almeno in parte cioè diciamo non esclusa l'alienazione ma non adesso io la farei adesso perché ha avuto due sventoloni questa vicenda che ci deve fare un attimo riflettere abbiamo bisogno di confrontarci e capire quale sarà la strada migliore per queste farmacie lo deciderà la città se non sbaglio ci sono due assessori che hanno creato una lista civica che hanno detto che la sosterranno e qui vengo per la domanda perché ricordo quando proprio la presentazione di voi come candidati Gambini disse eh vabbè ma Piva rappresenta un po' la vecchia politica di cattolica tanto che lo slogan se non sbaglio di Gambini è voltiamo pagina esatto dicendo che lei è un po' legato ai meccanismi che invece a suo avviso insomma vanno cambiati completamente una svolta io sono legato al mio teatro al mio teatro all'ospedale alla RSA per gli anziani sono legati ai miei aerei urbani sono legati alle mie fontane sono legato alla mia gente questo che mi ha mosso mi hanno chiesto di aiutare e sono sceso in campo questo se questo qui è il vecchio sarà il vecchio però sul nuovo abbiamo detto che dobbiamo fare uno sforzo importante tant'è che dico in cinque anni dobbiamo investire e dobbiamo investire per la crescita perché la città ha bisogno di investimenti mantenendo inalterati le funzioni e le strutture sociali le strutture sportive le strutture culturali che poche città nella nostra provincia hanno ma qualche cosa di nuovo cioè rispetto a queste cose che diceva che vanno mantenute e vanno anche riqualificate esatto noi abbiamo una struttura che è andata in difficoltà che si chiama VGS e so che si sta aspettando le gare di Asta io credo che su questa struttura noi dobbiamo fare un ragionamento con chi eventualmente se la giudicherà e vedo in questo ambiente una destinazione riferibile al turismo io ho pensato alla cura del corpo ai fanghi alla fisioterapia a queste vicende che potrebbero essere integrative rispetto al turismo familiare e al turismo sportivo che già vi dicevo quindi potrebbe essere questa una bucazione perché lì è veramente un buco nero quello è una situazione che purtroppo è andata in quel modo e anche per la lungaggine dei tempi ma anche per una crisi economica feroce che ha condizionato pesantemente l'edilizia in genere ma anche i servizi siete terra di confine voi lì a Cattolica un occhiolino a Rimini ma d'altra parte si deve anche strizzare l'occhiolino dall'altra parte quindi a Gabici a tutto quello che è l'ambiente anche pesarese ha agganciato in qualche modo anche i vicini per una sì io il nostro riferimento dentro terra oltre ad essere come dicevo prima Saludecio Mondaino Montefiore Montegridolfo e anche Gradara Gradara dove Gianfranco ha operato per un paio d'anni circa e su cui aveva posto grandi progetti di sviluppo ha un castello importante è un richiamo turistico importante noi abbiamo bisogno di fare sinergia principalmente con Gradara e con l'altra parte di dentro terra quando si va all'estero a promuovere la nostra riviera il nostro comune non possiamo non pensare di mettere nel pacchetto anche questa dentro terra così importante perché non tutti all'estero hanno queste condizioni ambientali storiche soprattutto la Valconca è una valle meravigliosa che piace ai turisti e abbiamo bisogno di offrirla farla conoscere così come i borghi ma Gradara per noi è un riferimento sicuro il primo provvedimento che prenderebbe da sindaco di cattolica eventualmente quale sarebbe? siccome noi ci dovremmo segnare a luglio se sarà luglio vorrò vedere una città pulita pulita una città infiorata una città che abbia le sue fontane efficienti attive perché questo è il fuoco del turismo poi pian piano si faranno le altre cose perché poi ci vuole tempo eccetera però principalmente noi abbiamo bisogno di presentarci bene e successivamente faremo una delibera di indirizzi per rinnovare quella che è la qualità urbana della città lungomare lungomare intendo la passeggiata mare via Carducci via Dante via Trento via Pascoli che hanno bisogno di interventi urgenti anche perché sul lungomare è quello diciamo pedonale di legno ma anche lì un po' di polemiche su questo parche che non è proprio di grande qualità il legno il legno naturale si muove a caso di problemi la gente che si fa male abbiamo bisogno di intervenire capire quale tipo di pavimentazione quindi potrebbe non essere legno potrebbe anche cambiare potrebbe non essere legno potremmo anche cambiare qui chiederemo a contribuire anche con le idee con le opinioni con la visione anche gli operatori di spiaggia ma se possiamo avere anche contributo economico li ha incontrati i bagnini tra l'altro sono disponibili e noi vogliamo aiutare i nostri operatori perché la spiaggia per noi è il motivo per il quale si viene a cattolico principale e gli operatori vanno aiutati vanno tutelati e li vorremmo tutelare fino in fondo anche domani quando dovremo tutelare le loro aziende una cosa al volo visto che ha parlato di luglio la notte rosa le piace? assolutamente sì Andrea è stato meraviglioso è un personaggio che ha portato in questo settore novità importanti auguri Andrea c'è un'altra partita in gioco importante anche su Rimini invece so che uno degli elementi cardine anche della sua compagna lo accennava prima è stato il sociale il tema del sociale del welfare una battuta sull'ospedale perché ha le sue eccellenze ma sappiamo che in questo cambiamento la spending review Italia la sanità questi ospedali sono sempre l'imbilico cosa pensa? è stato consolidato l'ospedale non è oggi non è più in bilico questa è stata una grande battaglia è affrontata con io dico incoscienza perché un'altra persona non l'avrebbe affrontata in quel modo ed era l'unico modo Gianfranco di questo i cattolichini dovranno sempre rendergli merito perché se non avesse fatto quell'opposizione incosciente noi dell'ospedale non ce l'avremmo più e quindi invece dà risposta a tante persone di cattolica e non solo di cattolica perché Gabizia viene lì e Gradare viene lì la Valconca viene lì quindi ho visto che lavoro a pieno regime ne ho parlato anche con il dottor Durante approfonditamente abbiamo il settore oncologico quindi diamo risposta proprio capillare vicina ai nostri cittadini questo per noi è un grande valore ricordiamo anche la chirurgia della spalla quindi non temete insomma perché sa quando si parla di Asla Romagna voi siete l'ultimo pezzo della Romagna magari si è sempre un po' il timore di essere periferia abbiamo in mano le carte che ci dicono che l'ospedale ad oggi è consolidato dobbiamo sempre stare attenti invece sul welfare quindi quali sono le priorità perché tante famiglie in difficoltà sappiamo che tra l'altro cattolica anche per una sua storia è molto attenta al sociale da più punti di vista c'è una forte rete sociale cooperativistica un po' questa idea del marinaio del pescatore la rete in qualche modo è abbastanza presente sì la rete è presente perché abbiamo sempre valorizzato forse perché è stato sempre stato al governo un partito di sinistra che guardava le persone che stavano che stavano meno bene stava svolgendo un grande lavoro la chiesa cattolica Don Biagio è una persona meravigliosa sta aiutando molto le persone che hanno bisogno di questo bisogno renderle merito e noi vogliamo stare con chi organizza con chi opera in questo settore assieme davanti non dietro per aiutarli a guardare al meglio le persone che hanno più bisogno abbiamo anche pensato di ampliare il centro sociale degli anziani e ogni tanto li vado a trovare vedo che stanno bene assieme socializzano giocano a carte cantano è bello da vedere sì anzi vorremmo ampliarlo sia nella struttura che esternamente per la stagione più calda quindi l'estate c'è questa data del 28 poi vedremo lunedì chi l'avrà vinta ma gli altri li teme cioè dall'altra parte come si stanno muovendo adesso il suo avversario in questo momento è in casa però sta guardando anche come si muove sì siamo avversari gli altri aspettano mi sembra avversari amici nel senso che se prevalgo io immagino che Sergio mi sostenga io dichiaro qui come ho già detto che se dovesse prevalere Sergio lo sosterrò perché mi sembra giusto così e anche vedendo l'idea poi non so il programma se lo vorrò vederlo ma immagino che dalla cultura comune ci sia poi una convergenza molti linee vicine comunque da lunedì si potrebbe giocare insieme in qualche modo insomma al di là di chi sarà il frontman ma gli altri appunto di teme movimento 5 stelle mi sembra che stanno lì alla finestra ad aspettare cosa succeda sì 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 non c'è secondo me da stare molto sereni non bisogna prendere sotto gamba bisogna continuare in questa azione di confronto di avvicinanza di vicinanza con la città per far capire le cose buone fatte quindi tutte le cose che vi dicevo prima ma far capire anche che cosa vogliamo fare nel merito pezzo per pezzo perché oggi la gente non si fida più dei partiti si fida delle persone perché ci si guarda in faccia ci si vede al bar ci si vede per strada vuole telefonarti il cittadino perché vuol sapere da te direttamente che cosa fai e perché non fai quella cosa perché non ti occupi dei propri interessi e quindi bisogna essere presenti è un lavoro molto importante molto capillare molto capillare chi teme di più movimento 5 stelle o centro-destra che si sta muovendo meglio secondo lei in questo momento oggi c'è in atto all'Unione Nazionale un movimento di protesta che va molto a gonfiare le fila dei 5 stelle e il centro-destra mi sembra abbastanza consolidato non vedo mosse importanti in avanti chi potrà fare la mossa tra l'altro non è presente il consiglio comunale sarà sicuramente 5 stelle quindi il momento 5 stelle sarà un soggetto politico con cui si trova a discutere capire le ragioni e capire se nelle loro ragioni ci sono delle questioni che possono essere prese ragionate e portate avanti noi la ringraziamo vogliamo fare un appello al voto proprio al termine vuole lanciare un appello all'elettorato di centro-sinistra esatto il microfono la telecamera a Corrado Piva 30 secondi la telecamera è questa qui davanti a lei questo tondino che la guarda per un appello al voto perché preferire Corrado Piva a Sergio Gambini invito i cattolichini a recarsi alle urne il 28 dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera perché non dobbiamo cambiare pagina ma dobbiamo valorizzare l'esistente valorizzare le cose fatte e incrementarle assieme alla città soprattutto i valori dell'economia grande filone e del sociale questo l'appello al voto di Corrado Piva noi lo ringraziamo per essere stato nostro ospite è stato un piacere fare questa chiacchierata vi ricordo che l'intervista la posteremo sulla pagina facebook di Tempo Reale quindi per tutti i cattolichini che vogliono andarsela a riascoltare magari anche a capire un pochino di più del programma di Piva tra poche ore sarà in rete ringraziamo ancora Corrado Piva ricordiamo domani alla stessa ora dalle 10.05 sarà nostro ospite l'altro candidato Sergio Gambini e d'altra parte questo confronto a distanza buona giornata ancora noi ci salutiamo e lasciamo spazio a Faccio Cose Vedo Gente ci ritroviamo domani grazie Corrado Tempo Reale Tempo Reale